Ciao scusa c'è una sigaretta Perché? No, c'è una sigaretta Ce l'ho ma scusa perché me lo chiedi? Che vuoi farlo indovino? Guarda che se per questo ce n'ho anche più di una C'è più di una sigaretta Esattamente 1,2,3,4 Vabbè esattamente erano 20 C'avevo il pacchetto quindi 20 Non fumate un Vabbè ora ne ho ancora 10 Quindi vuol dire che in media Uno di noi due ha almeno Una sigaretta Vabbè mo sei contento? Ma prima ti ho la volevo una sigaretta Ma me lo potevi dire Mi ha fatto perdere un sacco di tempo Ma sei scemo